ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati in questo nuovo video io sono leonardo io sono sommaso allora come vedete oggi siamo al trust market sapete quei negozi dove trovate di tutto e i prezzi sono bassissimi eccolo sapete perché perché siamo poveri non si dicono non si dice che no stiamo scherzando allora oggi ragazzi andremo a fare una cosa un po strana perché dobbiamo farci qualche regalo no perché siamo in periodo di natale quindi abbiamo deciso di farci dei regali naturalmente dovremmo andare a prendere degli oggetti o qualcosa vendati con questa il primo oggetto che toccheremo dovremmo comprarlo per l'altra persona esatto saranno i nostri regali ecco sono i regali economici quindi io direi di iniziare quindi io mi vendo subito io comuniamoci di mascherina la mascherina prima di tutto ovviamente ecco qua perfetto e adesso iniziamo la prima cosa da fare è naturalmente igienizzarci le mani quindi andiamo dammi una mano aiuto ah ok è freddo la telecamera è qua ora siamo pronti ad entrare e venite con noi sono sano siamo appena arrivati nel reparto abbigliamento ora vediamo cosa sceglierà leonardo speriamo bene leo occhio perché è un reparto di bambini donne uomo sono buono non ti conviene però occhio cos'è vai a sinistra e ora a dritto e poi verso la destra è molto meglio diciamo qua ciao buongiorno allora leo hai preso questo ho toccato questo però puoi scegliere tra diversi colori quindi quello il primo che tu ti prendi sono tutti davanti a te ok perfetto quindi il primo oggetto di leonardo è questo non posso dire cosa ora andiamo avanti ok bellissimo ragazzi voi cosa ne pensate? niente niente andiamo avanti tranquillo bene ragazzi allora ora dobbiamo cercare un altro reparto mentre leonardo più o meno se la sta cavando quindi ora gira alla sua sinistra ora tutta a dritto e poi a sinistra Ora, ok Allora, Leonardo davanti a te Più o meno Hai qualche oggetto Scegline uno Ok E' preso quello Non, no No Abbiamo preso questo Nascondilo, non devo vederlo Abbiamo già capito che cos'è Ora, gira un po' Vai, vai Ok, basta, basta Posso svolgere? Sì Oddio Quindi ora è il tuo turno Sì, ok Bene, bene, adesso mi diverto io Ti faccio fare un bel giro io Almeno non ho la minima idea di dove si trova Quindi andiamo Vai, spolito Vai, tutto tuo Là, vai Sto andando dritto? Allora, adesso è tutta una cortina Scegli quello che vuoi Ok Non ho la minima idea di dove sta andando Ma siamo in un bellissimo posto Vai Qua Più o meno qui? Sì Quello è un cartellino del prezzo Eh, hai toccato Fermo Hai toccato È una bomba? Sì, è una bomba Adesso lo diamo È una bomba Bene, Tommaso ha preso questo Utilissimo, eh Ottima scelta Ma te cosa vorresti per Natale? Non più Cosa vorresti per Natale? Allora Eeeh Un Non lo so Qualcosa di bello, sicuramente Tipo Gucci Oddio Sì Sogna, sogna Poi ti ci porto un giorno Stiamo andando da Gucci per caso? Sì È proprio il negozio Bene, continua la nostra La sua esplorazione Gira un po' a sinistra Ott Qua Esatto Oh, adesso stiamo entrando In un corridoio Qua Molto a tema Come potete vedere Prego Vai avanti Ok Oddio Oh, qua ci sono delle cose Molto interessanti Per esempio Che cavolo è quel coso? Ehm Non lo so Adesso Scegli quello che vuoi Che cavolo è? Eeeh Non lo puoi sapere Ma che schifo Cos'è? Bene Hai preso una cosa molto utile Complimenti Adesso anche il suo torno è finito Quindi Ora Vado in cassa Per pagare Le sue cose E poi E poi Andrà a lui Così pagherà la mia cosa Almeno non sappiamo ancora cosa abbiamo comprato Adesso ragazzi sto pagando la roba che ha comprato Tommaso Eeeh Lui ancora non sa niente Ragazzi ora sta a me Sto pagando gli acquisti di Leonardo Secondo me Mi piacerà Sì grazie Grazie mille Il nostro giro è finito Abbiamo pagato E adesso andremo a casa a spacchettarli Perché ancora non sappiamo neanche cosa abbiamo preso E ci vediamo direttamente dopo Ciao ragazzi Allora siamo tornati da casa Volevamo ringraziare tantissimo il gestore E tutto il negozio Grazie mille Vorrei direi di metterci a sedere Esatto E Questo è tuo Questo è per te Magnifici acquisti Ne abbiamo fatto Esatto Però prima Dobbiamoci un po' Bene Ora che siamo diventati due babbi natali Apriamo i regali Allora Io questo Oddio A parte che è orribile Ma Sono 3XL Raga A me non Ma Che cosa hai preso Invece A che sortire Utile Utilissimo Con il fiorellino Oh vi prego La borsa Nella Raga Queste sono il futuro Altro che i camini Queste sono la rivoluzione Io sono Io sono entrato nel muro Questo è bellissimo Sono proprio E' una bellissima Sciarbo Complimenti Ragazzi Questa era la famosa bomba Eh è vero Quest'anno non è andata molto bene con i regali Però Ma se il prossimo anno saremo un po' più ricchi Forse faremo shopping vendato da Gucci Quindi Fateci diventare ricchi Vi prego Allora Questo video è finito Spero vi sia piaciuto Ovviamente vi ricordo di iscrivervi a tutti i social Instagram TikTok Iscriviti al canale Mi raccomando Scriveteci nei commenti Cosa vi regaleranno per Natale Perché siamo curiosissimi E niente Il video finisce qui Vi mandiamo un grande saluto Buon Natale 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 Buon Natale